La ricerca dei tesori sommersi lungo la costa Ionica Regina, in particolare la Locride, si intensifica con l'approvazione dei fondi regionali per un nuovo progetto di mappatura archeologica subacquea. L'ultima mappatura completa risale al 2006 con il progetto Archeomar del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, ma nuovi ritrovamenti e avanzamenti tecnologici richiedono un aggiornamento. Il progetto, lanciato dal Dipartimento Sviluppo Economico e da Trattori Culturali, ha ottenuto il Via Libera con 150.000 euro a disposizione. La zona di particolare interesse si estende tra Riace e Casignana, un'area storicamente ricca di scoperte, incluso il famoso ritrovamento dei bronzi di Riace avvenuto 51 anni fa. La Regione si impegna a svolgere iniziative finalizzate a individuare, valorizzare e conservare i beni archeologici sommersi lungo la costa Ionica Regina. Obiettivi chiave del progetto includono l'individuazione di nuovi siti archeologici sommersi, il contributo all'aggiornamento dei dati precedenti e la creazione di un censimento completo di questi beni. Nella delibera votata dalla Giunta si sottolinea l'intenzione di mettere a disposizione i dati e le informazioni raccolte per il Ministero della Cultura e gli organi a tutela della vigilanza. Questo progetto non solo mira a preservare il ricco patrimonio storico sottomarino della Regione, ma anche a condividere le scoperte con la comunità scientifica e il pubblico interessato. Grazie 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 a tutti.